Ha rotto un braccio alla madre anziana che non voleva dargli soldi per comprare alcolici e droga. Una triste storia di violenza tra le mura domestiche e quella scoperta dagli agenti della squadra mobile di Foggia che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 43enne pregiudicato del nord Italia, ma residente nel capoluogo Dauno. In base alla ricostruzione fatta dai poliziotti, l'uomo, con problemi di dipendenza da alcol e stupefacenti fin dall'età di 15 anni, sottoponeva da tempo a maltrattamenti i genitori ultrasettantenni. Le numerose aggressioni e i danni della coppia sono state accertate sia attraverso i referti medici che attraverso le diverse richieste di soccorso arrivati in commissariato per sedare l'elite in famiglia. In una circostanza, nel corso di un vero e proprio pestaggio, il figlio violento avrebbe addirittura rotto l'avambraccio alla madre procurandole anche dei vistosi libidi sulle gambe. I due anziani genitori, ormai esasperati, si sono così presentati in questura il mese scorso e danno sporto denuncia contro il 43enne, ponendo fine ad un incubo durato fin troppo a lungo. L'uomo adesso si trova in carcere in attesa di comparire davanti al giudice e accusato di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.